Il primo colpo del football club matese con l'allenatore Corrado Urbano al timone della squadra è finalmente presentato alla stamba qualche giorno fa. Un vero miracolo come è stato definito dal presidente Luigi Reca averlo portato a Piedimonte Matese per il suo passato oltre 80 presenze in Serie A e tanti anni da allenatore e soprattutto una profonda conoscenza della categoria la D che la squadra si appresta a disputare il prossimo anno. Allora Presidente il grande giorno è arrivato. Sì oggi è un grande giorno per tutta la comunità del Matese stiamo presentando il nuovo simbolo che racchiuderà a tutte e due le anime sia quella della pianura che delle montagne quindi tutto il Matese unito che per la prima volta dopo tanto tempo si allea in questa avventura dove era necessaria una forte alleanza per poter competere contro queste grandi città e questi grandi squadroni che prenderemo. L'allenatore, la scelta com'è che è arrivata sul Corrado Urbano? L'allenatore, noi onestamente non pensavamo di riuscire a prendere un allenatore così importante. C'è un allenatore che ha fatto oltre 80 presenze in Serie A, ha giocato una vita nei professionisti, ha vinto anche una Coppa Europea con il Bari, è un allenatore che allena in Serie D da 20 anni oltre ad aver allenato la primavera del Bari. Ci siamo sorpresi di noi stessi sul fatto che siamo riusciti a prendere una persona di grande caratura che ha l'esperienza giusta ed è senza dubbio il profilo giusto per guidarci in questa nuova avventura. Allora per questa nuova avventura ci vogliono i giocatori, ha qualche idea per la testa? Sì, la squadra, la società sta lavorando bene, il direttore sportivo Corsale e il direttore tecnico Romagnini insieme al mister e a tutti gli altri stanno lavorando benissimo. C'è una lista importante di calciatori sul taccuino, parecchi sono stati contattati, alcuni possiamo dire che siamo già avanti con la trattativa. Credo che riusciremo a presentare una rosa molto competitiva. Quindi le prospettive per questa squadra che nascerà a breve sono tutte positive. Una squadra che deve mantenere la categoria, che non ha paura di nessuno e che darà battaglia soprattutto in casa a tutti gli avversari, nessuno escluso.